Ciao a tutti e ben ritrovati su Clash Royale dopo molto moltissimo tempo, stesse coppie che stranezza e molti più forzieri aperti e fermo dopo perché andremo alla ricerca del tornado oggi l'ultima, l'ultima, dove, 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 qua eccola qui, l'ultima però potrei comprarla per 400 ma io non scioppo perché dicevo che riesco a spendere dal kebabaro di fiducia comunque annuncia abbastanza importante nel clan che si chiama un po' di tutto ancora dal nome vecchio del canale, la descrizione è questa qui così non mi confondete e il più forte di tutti ossia Darty Zoppy che è in arena 9, 9, ecco qui arena 9 farà il torneo da 100 gemme e spero che ci accorrirete in massa nel clan per assistere a questo torneo ora torniamo alla ricerca del coso e apriamo quelle gratis che sono di solito quelle più niente e meno di niente abbiamo uno di ferro, di desti ferro, di argento cavolo di niente, va bene andiamo avanti così facciamo anche coppe per quello della corona che sarà molto più probabile che ne troveremo uno su quello lì invece che in altri mi dispiace ma io il cimitero non lo riesco a usare non lo riesco a usare e quindi sono sempre quel vecchio car... non dimmi che sto... nooo ah ok, ho detto no, come fa a non avere un anti-orda, beh però l'ho distrutto, l'ho dist quasi, quasi ora dico, attiriamolo col moschetti, eh sì non è un... appenente complimenti bravo, bella tattica, bella tattica però, però devi ricordarti che io ce la faccio con queste tattiche 184 da 2350 a 184 però hai subito, hai subito, hai subito perfetto, non potevo chiedere di meglio però non dobbiamo abbassarla, guardia non dobbiamo assolutamente abbassarla abbiamo ucciso un mago di ghiaccio con una valchiria mentre ero totalmente congelato vediamo se riesce a sopportare questa invece oh cavolo un pecca sì, basta una semplice... ok, non basta più una semplice torri inferno spariamo alla strega avanti strega, avanti, avanti, avanti ok, ora siamo saldi come non detto ti prego, pecca, vai di là, vai di là nooo, non sta a dirmi bastardo no, 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 no no, vai, perché non spawnava? per pochissimo, per pochissimo guarda, è forte che con un colpo ti arriva una stecca di quelle mi dispiace, mi dispiace sì, la versione tarocca del... del coso, come si chiama ma sei proprio pirla, allora ma perché? vabbè, vabbè, si vede che... non so come sei arrivato in Arena 7 questo qua ma perché colpire la torre centrale? ora è... ora ti è veramente impossibile farmi... battermi c'è... 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 attira... perfetto ora... ora gli sgherri sono andati o almeno così speravo istruziamo il mago che dà parecchi problemi ora... voglio fare due stelle almeno dov'è... toh... così sei sempre sotto 30 secondi maledetto no, oh cavolo oh cavolo, 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 cavolo beh, non sarà un problema guarda ovviamente e via, ciao no, sì, lo so che è impossibile però non voglio fargli vedere che cosa metti il pecca adesso che è finita anche lo zappino li ho messo al pecca mi sembra un po' elisir buttato solo a me sembra così a me così, cioè io sono sempre riuscito a fottere un pecca poi no, baule d'oro non male apriamolo già ah, c'è già uno che sta aprendo epic ok, ti dono, ti dono tanto non mi serve io chiedo sempre a valkyrie perché voglio farla al 7 siamo da 52 adesso invece apriamo quello d'oro per dare un po' di di dai forse mannaggia a te no questa, questo qua è il male questa cosa il problema è che qua io avrei 10.000 ma non c'è neanche il baule epico che posso aprire è difficile da trovare oh, in questi giorni o anche ieri cioè su 4 su 4 epiche che ho trovato ho mai il tornado ho mai il tornado addirittura il pecca mi ha dato che a me il pecca fa schifo vabbè oh, contenti loro contenti tutti non reagisce ah, ecco mi fa gli ho detto che che non reagisce ha già preso le speranze due sgherre non saranno così e uno è andato dai, dai, dai vedevo che non sparava il datore sì, l'ho un po' un po' buttata lo ammetto potevo sfruttarla meglio tac ah, continua a beccare l'atore beh, non possiamo dire che le abbiamo fatto pochi danni però guardate da 2500 a 800 e punta ma perché punta? io avrei puntato a qualcos'altro ma togli togli veramente poco la palla di fuoco alla Valkyria insomma me la facesse fuori a un certo punto ora buttiamo gli spiritelli del fuoco in modo che anche se butta gli sgherri tac o qualsiasi orda almeno qualcosina gli abbiamo fatto dai non gli abbiamo fatto zero ma gli abbiamo fatto due per esempio io devo una scala da una a 10 infatti vedi che vanno giù piuttosto facilmente questo deck è il mio preferito per un motivo cioè io con tutti o qua almeno quasi tutte le truppe io riesco a bloccarle nella tattica di attacco non è da meno e riesco quasi sempre a per esempio questo qua mi vuole sfottere questo qua perché lui ha trovato il tornado e lui sa che io lo sto cercando ma non lo fa ma infatti dice ah io ce l'ho beh vediamo un po' chi vince chi ha il tornado e chi non ha il tornado si ho visto cosa fa ma è anche uno si è salvato però ho visto ho visto come agisce il tornado si ti attira tutte le truppe qui nel centro però fa anche danni pochissimi però se ti attira un'orda di scheletri te la distrugge eh si perché ha un pochissima vita gli scheletri e con un tornado te li va fuori la tenere vedete tutta 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 cavolo mettiamo questo no voglio le due stelle voglio le due stelle andiamo un po' becca becca vai no non quello maledetto per non dire altre cose oh non va io così quasi gli lascio quella gli lascio quella dai battaglia finisce in 8 7 6 5 no non beccare si 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 vai 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 ma porca mi succede quasi ogni giorno no voglio essere certo voglio essere sicuro di una cosa chi è qua chi vuole fare michele sono in live siete in live vabbè glielo dico così almeno siete in live 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 livelli no voglio essere sicuro di una cosa quanti anni fa faceva 62 allora non ce la facevo lo stesso va bene va bene ho ricevuto una valchiria grazie apriamo questo qui per tanto per finire e nulla spero che il baule della corona almeno faccia qualcosa ho 5 online e nessuno che dice grazie domatori mi serve dai tutti che lo chiedono non posso donarlo se no vi vado a zero domani non posso donarlo a tutti serve anche a me quindi se siete clanners smettete di chiedere domatori perché servono a tutti quindi non chiedeteli sembra che sia più preparato questo qui ho buttato gli spieratelli per niente vediamo un po' che succede si è sacrificato allora tengo la valchiria occupata con la mia valchiria e il domatore viene distrutto come faccio qua ne niente 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 almeno stavolta non chiedo di vincere andrebbe bene anche vincere ma almeno una stella almeno una stella non ho nulla non ho nulla proviamo così dai vai così ora il moschettiere da dietro ti fa tac no non va non va non va o almeno pochi eh si ci ha fatto tanto male troppo male mi sa che li ho buttati mi sa che poi li ho buttati nel cestino gli spieratelli qua forse li ho giocati bene qua forse ho giocato un po' male non moltissimo però in gran parte si stessa tattica però io non ho il zir cosa ho falso ne ho tanta qua ciao e una stella una corona è andata ora devo farla io una corona almeno una corona perché uno perché mi serve per il baule due perché e fa la fo ah sono volte fuori a vicenda io già me lo immagino uno sconto tra l'alchiere che ci fanno fuori a vicenda però però il tipo ha 2200 di vita ancora come posso fare funziona secondo voi ok cavolo mancano 30 secondi 30 secondi 30 secondi è stata una mossa un po' stupida perché mi ha fatto moltissimo danno lui però non posso dire che non abbia funzionato ora 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 ok i spiritelli che van bene eh me li ha distrutti tutti ancora oh ma che palle sembra che proprio il gioco non mi voglia far vincere trucco quanti 26 secondi come faccio a fare i 1000 di danni in 26 secondi così forse eccolo no non dirmi che mette la cosa non dirmi che la mette ah ok 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 vabbè se non è cambiato nulla non è possibile che quando arrivo a 9 9 9 come si chiamano 9 coppe l'ultima non la posso più fare non la posso più fare perché il gioco si rifiuta di farmi vincere si siete costretti a sorbire bene un'altra contenti niente proprio nulla nullissima cos'è epic giochi vediamo un po' che sta vincendo guardo e basta e ok io torno indietro si devo finire questo episodio entro oggi vediamo se questa corona mi porterà fortuna pure sfortuna ma spero non sia troppo complicato trovare il tornado ma è complicatissimo complicatissimo anche il mago di ghiaccio eeeh dai non posso neanche usare un'ora da ora oh si si se il mago di ghiaccio non fa uno scatto improvviso si dai 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 tac per fortuna è cattivissimo lo scheletro si non ci vuol niente per allontanarlo però però e via anche il mago di ghiaccio il mago di ghiaccio mi dicevano che ero più tempo fa ma l'hanno depotenziato un po' beh butto 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 che intanto la valchiria assorbe bene vediamo un po' chi va prima perfetto attacca con più rapidità e siamo a posto però mi sembra che siano un po' più favorevole questa volta a vincere adesso adesso nessuna orda può andar bene contro questi due qui mi dispiace ma non funziona con me dai mi impressionava un po' rallentatore il gioco magari sono solo io non so forse perché l'effetto del mago di ghiaccio si sente e lo vedo tutto a rallentatore no carne bastardo ma sto stregone è cattivo lo stregone il mago di ghiaccio no fortuna che c'era la Torre Inferno e così sordiamo anche il mago è ben stradito per niente proprio due microsecondi ora vediamo un po' se ha delle orde una orde su serio cavolo pensavo avesse almeno un'orda di sgherri un'orda di barbari goblin qualcosa niente è stato stranamente è stato stranamente deludente ora tiriamo e io giro di là un po' se funzia mi sa che è uscito dal gioco non è nessuno si comporta così vabbè se è uscito dal gioco io posso fare una cosa sola ridiamoci su ridi ridi così non abbiamo fatto una ma tre stelle tre ma beh corone stelle quello che è quelle 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 e baule d'argento che non serve a nulla ecco è finita vediamo un po' chi ha vinto tre views più dei più dei miei gameplay si ci rido su ok veniamo veloci non male è partito bene però però è partito veramente bene però il domatore è cattivo ecco perché lo uso sempre io adesso attacca dall'altra parte stessa tattica principe principe nero e è stato divertente vederlo è stato divertente vedere degli sgarri un mago spariti spariti dalla pace della terra adesso verso qui qui ah abbiamo messo il domatore ecco perché mi sa che doveva gestirlo meglio quel domatore o forse non aveva i lisieri sto guardando al triplo della velocità sta vincendo ah punta proprio per vincere bravo epic puntava puntava proprio a distruggere no a vincere a distruggere qua non dono perché sennò non mi resta più niente avrà mostro che se ti state aspettando da sempre tre gemme è un buon proposito no no eh che schifo no neanche oggi riusciremo a trovare qualcosa mi sembra che la seconda volta che è andato in fallimento uno spacchettamento ma si possa essere si non è che lo dico perché non l'ho trovato no barbari d'elite sei di elisir però sono molto veloci attaccano un po' più forti vabbè però solo due io io non lo farei agenziamolo un attimo truppe durata tre secondi allora vorrei metterlo in questo deck si non ce l'ho ancora ma non lo so non lo so è un anti-orda bello e buono però allora dopo questo terrificante fallimento si perché è stato proprio un fallimento non trovare il tornado vi dico spero che il video vi sia piaciuto nonostante non abbia trovato la carta che volevo e spero che continuerete a seguire i prossimi video di qualsiasi serie sia ciao a tutti